Cosa ho trovato qui? Lory. Cosa? Cos'hai visto? Sono due mezzi con un radar che gli gira sopra la testa. Due mezzi con che? Con un radar che gli gira sopra la testa. Johnny, la collina Power 12. Non ho copiato. La collina Power 12, lo usiamo come copertura. Cosa? 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 Eh, il 1.29 pollo. Un bel video questo. Oh ragazzi, un F-15 ha butto. E va giù. Porco Dio. Sempre sia rodato, fratello. C'è anche un bel Mi-29 di iettato per la sua. Va giù come un sasso. No, la Cap ha fatto un buon lavoro comunque. La Cap. No, i 16 sono sue. Mi sa che... i 15 sono sue, al 16. Mi sa che... Un F-15 ho visto... Ho visto che andava giù, eh? Sì. No, sono... Guarda che Lorenzo non le vingue, gli F-16 e gli F-15, eh, quindi... Ah, è danneggiato, sì sì, è danneggiato, ma è... Ah no, si è iettato. Ah no, va giù. Ah no, si è iettato, si è iettato. Boom. Eh, in realtà c'è ancora un Mi-29 che sta ben candela tipo... E' iettato. E c'è un F-15 che è in defensive. Un po' una volta. Mi rimasto da solo. 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 Col frenero dinamico aperto. Ahah. Veramente. Ehi, non barate voi. Usate solo F-1 come visuale. Giusto. Altitude. 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 Allora. Do... Azzittire sta troia. Ecco qua. E' zitta adesso. Dei miglia e cinque al DOGE-1. Anche il Mi-28 ultimo è andato giù. Ah. Qui c'è il Mi-29 che ha lasciato, ha acceso i motori e si è lanciato. E sta continuando a salire a 7000 metri senza pilota. La deficienza artificiale dell'ID questa. Ma in realtà è possibile. Cioè, se tu primi in un certo modo, no. No. Non direi di no. Un-29. A vero, ti ho fatto un motore. Ma c'è un motore in fiame, è rispetto perché è un mare, eh. Si, si, è una spesa. Ti vado a dare su 25.000. Aumenta anche la velocità perché, guardate. Che minchiata. Si è fatto un video all'oposta quell'ID. Lo sto facendo il video qui. Mi sa che chiudo la baracca. Che cazzo sta facendo stilioti. I K50 sono belli coperti, immagino. Sicuro, vero? Si. Siete molto sicuri? Ah. Siete sicuri della cosa? Uh. Mamma mia. Quali un gusca che vi ha spilato davanti alla faccia invece. Occhio che ne arrivano ancora. Tower, sending 240. Un threat lounge. Lounge. Ok, occhio, occhio, occhio. Guardate il mio tower, guardate dove sono io. Ma si, ma non c'è neanche da chiederlo. Tu vedi dei missili? Pensi, dov'è Trita? Ok. Dove c'è Trita? Ci sono i Missili. eh ma mi sa che erano proprio lì eh si si che erano proprio lì, sicuro ma ci sono tritte e ci sono messi oh no ti hai fatto già le sbattute che mai c'è qualcosa guarda se sei staccati a coppare la tua si è seccato un po' di acqua si ok mi abbasso di nuovo perchè stanno traccando ti abbasso ti abbasso non ti traccio più però è un casino trovarli eh sto rollando facciamo una cosa io mi alzo vedi se riesci a veder a vettura qualcosa ok? e vado verso destra aspetta che TVTGP aspetta vai pure vai 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 vado mazza si 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 ma dietro la collina elicotteri si avrete i vostri eh non volevo dirlo traccato di nuovo tracca di nuovo s a 6 ore 10 ore 10-11 vi consiglio di abituarvi alla cosa un telly telly vado sto arrivando sto arrivando eccoli qua riesci a insegnarle? eh purtroppo purtroppo no perchè arrivo giù come un dannato sei sicuro su come sta andando? si 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 informativo vediamo vediamo la fine eh mi sa che questo video va su youtube poi vero? faccio l'avvicinato truppe amiche truppe amiche truppe amiche tu lo sai che andavi su youtube poi vero? insieme al tuo socio che ha battuto che ha battuto 3 a 10 un colpo solo ok truppe amiche vk50 praticamente sotto di me brecco a destra mi infilo in questo la montagna missile launch da 9 si confermo tira verso gli elicotteri tira verso gli elicotteri cazzo utilissimo sta montagna vabbè non è che riempio di difesa aeree poi non vi do neanche un buco di culo dove infilarmi sai grazie amore ma Giuseppe che fine ha fatto? io ho rosicato sto andando a vedere che cazzo perchè non riuscivo a a passare in modalità nav ah sto studiando? Andrea padona già ti conviene di rimanere in zona no 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 sto aggirando si sei scherzo la zona perchè non capisco siamo launch again 6 o'clock ma pensavo non c'entrò un cazzo io non vorrei che gli elicotteri stiano facendo festa senza di noi eh? no 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 ok sti ottenere tanta avanzano sti appuntando occhio la testa wow stavo inserendo delle coordinate porca puttana è andata di russo mi è andata è andata di russo ma la caghe va ma la caghe va che è successo si uno beh non posso andare in senso del bigote chi è che ha sganciato una cb in mezzo? una che? non ho capito ho visto delle esplosioni erano i mission launcher con gli russi ma è possibile ora madonna e sganciano tipo a modi cpu? possibile? si sono lanci abc multipli sono in grad sono 3 batterie ecco vi consiglierei di stare sempre al di qua del fiume per i soliti modi al di qua del fiume? no no dicevo gli 10 tanto bene al di qua mi sentendi? a scazzo ovviamente sud ovest pelli figli di cara pelli come sei passivo aggressivo anche la con te alba e questi sono tante che canoneggiano sai che è partito l'attacco eh si sti cazzo di t80 cambia formazione o no? no rifle break break right ma dove l'hai lanciato sto maverick? alt 1 2 vedrà vedrà ah mi vuoi zozzare le tiri eh? zozzone vedrà 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 che ti prendo ci sta occhio che l'hai pieno di a 6 a 6 non so l'f6 dice cosa abbia tirato giù tu stai sull'occhio un attimo a dove vai vedrà che questi li prendo continuano a tracciare tracciami adesso figlio di indrocchia come sei aggressivo eccolo lì vuol fare il rifle qual'era Andre? capo sei andato in sed Bob che spara così a caso no cazzo riesco più avanzare non riesco a beccare il radar non so dove sia non riesco a vederlo eccolo l'italia negative contact cazzo la storada di merda K50 come siete messi? riuscite a ingaggiare vedete qualcosa io sono solo qua arrivo Giugno si ma lì vedi i target che arrivano? ci sono tipo 4812 T80 dietro la collina ho capito ma lì dove si può mai la situazione? Andre quale prendi? il primo a destra eh non riesco più a allocare Bright è impazzito l'RWR? eh non so dove perchè non lo vedo eeeh buono non so dove è Johnny ma stanno arrivando Johnny dove eri prima adesso bravo Johnny lo sapete che i vostri target non sono quelli vero? è lasciato un altro due lo lanciate perchè stanno sparando l'artiglieria? non sono l'artiglieria quelli ah no non sono i cube si 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 noi non possiamo a nessuna parte se quelli non vengono tirati giù perchè tracciano come delle mignote senza offesa per le mignote ovviamente guarda come lo lanciano con i T-80 qua eh avere dei riferimenti perchè non riesco a capire ok vediamo Johnny cosa sta facendo un missile è arrestato anche per me no due missili per me qualcuno ha lanciato? negativo negativo ok allora sono defensa cazzo chi è che lancia verso la zona mica ok amico elicotteri state lanciando? quelle le volance negativo tanto Johnny dovresti vederli T-80 ormai eh sei eh si no è dietro la via non li vedo ah si porca puttana dove c***o sono però un posticino io casuale qua da vedere non lo so guarda allora guarda